L'intuizione grafica che racchiude l'anima dell'intero disegno è potente tanto quanto è ridotta nelle dimensioni e rischia di sfuggire a uno sguardo superficiale. E' proprio uno sguardo, anzi lo sguardo, è il fulcro del logo del Giubileo della Misericordia, lo speciale periodo che Papa Francesco ha voluto annunciare lo scorso 13 marzo nella Basilica di San Pietro e indire solennemente un mese dopo, l'11 aprile, con la pubblicazione della bolla pontificia. Gesù Cristo è il volto vivo della Misericordia del Padre, afferma all'inizio del documento, e proprio su quel Misericordie Vultus si è concentrata l'inventiva dell'autore del logo, padre Marco Ivar Rupnik, gesuita, teologo e insieme uno dei massimi interpreti mondiali dell'arte del mosaico sacro. La sua mano ha creato un Cristo buon pastore che porta sulle spalle Adamo con il viso di questi, che in un intimo gesto filiale aderisce da un lato a quello di Gesù, al punto che l'occhio sinistro di Adamo e l'occhio destro di Cristo sono in realtà lo stesso, tutta la redenzione in un piccolo tratto di matita. Dio guarda l'uomo in modo tale che l'uomo lo può comprendere, gli si comunica in modo tale che l'uomo può vedere, e ciò che vede l'uomo vede anche Dio, e l'uomo comincia a vedere in modo di Dio, questa divina umanità di Cristo. Lì si vede che veramente Cristo ha assunto tutta l'umanità. Il rosso, le varie gradazioni di blu, la sfumatura cupa dell'oro dell'abito di Adamo, in contrasto col bianco sfolgorante di quello di Cristo. Ogni scelta cromatica nel logo del Giubileo della Misericordia è pensata secondo il codice fissato mille anni fa dagli artisti di ispirazione cristiana. Rosso, il colore del sangue, della vita, è il colore di Dio. Blu è il colore dell'uomo, l'unica creatura che sa guardare il cielo, mentre il bianco è dello Spirito Santo, perché riflette la vita trinitaria. Il verde racconta il creato, il nero, la notte e la morte. Cristo è bianco perché di fatti dogmaticamente negli inferi scende Cristo, l'anima di Cristo, la vita dello Spirito di Cristo, mentre il suo corpo riposa nella tomba. Allora è la luce, e la vita eterna del figlio che scende. L'intorno sono questi tre cerchi concentrici del blu al quasi nero, da un lato perché fanno vedere questa impenetrabilità del mistero di Dio, ma dall'altro anche perché la luce del mondo non ha più senso perché l'unica luce è Cristo e splende dove? Nel cuore dell'umanità. E l'adamo che si lo porta sulle spalle è di un colore che era verde, ma con oro è diventato un colore che non è più né verde, non è neanche del tutto dorato. È proprio questa umanità in processo della redenzione, della santificazione. Ma un intero viaggio nel tempo, lungo secoli di tradizione e cultura, è racchiuso nella composizione del logo, perché non solo la scelta di utilizzare i colori secondo l'antica simbologia cristiana, ma anche lo stile medievale del disegno, la fissità dei volti tipica dell'arte paleocristiana, risponde a una precisa interpretazione della postmodernità che l'autore spiega in modo sorprendente. Siamo in un'epoca che si è conclusa, l'epoca della modernità, dal rinascimento fino al nostro secolo. E allora il tempo nuovo che viene sarà di nuovo un tempo organico. Se questo era un tempo critico della ragione, dell'intelletto, dell'università, della ricerca, eccetera, adesso sarà di nuovo il tempo della vita. E quando c'è un periodo storico dove prevale la vita, dove la priorità ha la vita, la cultura è sempre simbolica, poetica, metaforica, dove si può dar e far emergere la vita. Papa Francesco incarna, secondo padre Rupnik, questo tendere dell'epoca postmoderna verso la vita, la riscoperta prepotente dell'uomo, entrambi liberati per così dire dai labirinti di astrazioni e intellettualismi e riportati a un periodo in cui vita e conoscenza non erano separate. Nelle parole e ancor più nei gesti profondamente umani di Francesco rivive, afferma padre Rupnik, la figura del padre misericordioso del Vangelo, del buon pastore, che si rivolge non più ai sistemi e alle idee, ma alle persone. Penso che è un grande pontificato questo di Francesco perché veramente già fa parte della nuova epoca, non fa parte più di questa epoca passata, è già la profezia della novità e la si vede proprio perché la parola sua è importante, ma il gesto e l'immagine altrettanto. E' già un linguaggio simbolico nel senso nobile della teologia, cioè dove l'unità di due mondi, divino e umano, creato e increato, si esprimono l'uno e l'altro. Quando Cristo spirò sulla croce, noi abbiamo colto questo respiro e abbiamo cominciato a respirare e perciò Adamo e Cristo si sono così vicini in questa immagine e così vicino al popolo, il popolo lo percepisce Papa Francesco.